Ok, dunque, piccolo aggiornamento. Allora, la situazione più o meno è questa, diciamo. Attualmente sul canale che cosa sto facendo? È finito la campagna dei ghetti, sto facendo l'analisi delle fazioni che ovviamente andranno avanti in video a settimana come al solito, sto facendo la campagna dei ghetti che vedo, e francamente la cosa non mi stupisce, che tutto sommato non... cioè, sì, ok, fa le sue visualizzazioni standard, diciamo, ed è comunque meno seguita rispetto agli altri video che faccio, ecco. Sicuramente è un... cioè, non è che la cosa mi stupisca, come ho detto, cioè, è abbastanza normale. E tra l'altro, giocandola mi rendo anche conto che probabilmente non è una campagna particolarmente interessante, in realtà. Quindi, partendo da questa condizione, diciamo, considerato la fine della campagna dei con i ghetti, dovevo un attimo valutare che cosa fare adesso. Originariamente avevo pensato di fare cose, come dire, diverse da quello che è normalmente la programmazione, tra virgolette, sul mio canale, sfruttando il fatto che la maggior parte, apparentemente, delle persone che mi seguono, comunque lo fanno, o quantomeno apprezzano particolarmente l'analisi delle fazioni, quindi, anche se non faccio un'altra campagna su un Total War, non dovrebbe succedere niente. Però, vabbè, ho caricato l'analisi dell'Impero Romano d'Occidente e in tanti l'hanno richiesta. Ora, temevo che sarebbe successo, diciamo, perché mi rendo conto anch'io, e sono d'accordo con voi, che sarebbe probabilmente la campagna più interessante che si può fare su Attila, sia da vedere, anche da un certo punto di vista da fare, nel senso che, se uno ci gioca per conto suo, e riesce a cavarsela, sicuramente è abbastanza... da qualche soddisfazione. Da fare video è tosta, la situazione, però ci si prova, diciamo. Cioè, in sostanza, ho deciso di accontentare la richiesta. C'è però un discorso da fare, cioè, io normalmente, quando faccio una campagna, ho considerato che... cerco, da un lato, di fare in modo di finire al prima possibile, quindi cercare di non perdere tempo. Dall'altro, di mantenere quella, o almeno un'apparvenza di competenza, che apparentemente, considerato qualche commento, riesco a fare piuttosto bene. Sostanzialmente, in genere, in ogni campagna che ho fatto, possono essere capitati un paio di casi dove, vedendo che una determinata scelta ha portato a delle conseguenze non necessariamente positive, che cosa facevo? Ricaricavo il video... cioè, ricaricavo... smettevo di registrare, ricominciavo da capo, e facevo scelte differenti in modo che determinate cose non succedessero. Cioè, se vedevo che, nel turno successivo, un esercito scompariva dal nulla e mi conquistava la città, allora magari, il turno prima, spostavo qualcuno più vicino per difendermi a cose del genere. Ovviamente, una cosa del genere non si può fare in una campagna con l'impero romano occidente, perché... Cioè, se ricomincio a... cioè, se mando a quel paese la registrazione e ricomincio ogni volta che succede qualcosa di negativo, cioè, effettivamente non faccio più video nella mia vita. E quindi bisogna vedere un attimo come gestire la situazione. Cioè, io potrei fare in due modi, sostanzialmente. O... Non caricare assolutamente, quindi, come va-va. Questo significherebbe che la campagna potrebbe durare poco, perché non so che idee vi siete fatti di me, ma io francamente non sono assolutamente convinto di riuscire a portarla a termine, ma... Al di là di quello, vabbè. Oppure potrei caricare, ma registrare il fatto che una determinata scelta ha portato determinate conseguenze, e il fatto che io poi ricarico per cercare di cambiare la situazione. Questo, in teoria, potrebbe anche essere interessante da un certo punto di vista, perché fa vedere, in un certo senso, anche come affrontare determinate situazioni. Perché adesso, ci sono persone che in Total War li giocano senza mai salvare, eventualmente caricare salvataggi. Io non sono uno di quelli, francamente. Cioè, io ero uno di quelli che in medieval, per dire, prima di utilizzare una spia o un assassino, salvava in modo da poter riprovare finché non ci riusciva. Soprattutto con i mongoli lo faceva. Quindi, ecco. Però, per qualcuno potrebbe essere una roba un po', tra virgolette, come dire, barare o cose del genere. Quindi chiedo la vostra opinione per sapere cosa preferite. E comunque, cioè, tornando al discorso di fare questo genere di cose all'interno delle altre campagne, come detto, può succedere una volta, due volte all'interno di tutta la campagna. Non è che è una cosa che faccio sempre, ovviamente. E lo faccio quando non farlo significerebbe perdere un'altra parte per sistemare le cose. Detto questo, poi ci sarebbe anche il discorso della difficoltà. Io non ho giocato moltissimo ad Attila, nel senso che ho fatto qualche partita in normale, mai portata a termine, non so neanche come è fatto la schermata finale del gioco. I gheati, sto facendo la campagna in normale, quindi siamo sempre lì. Farla in normale sull'impero romano d'occidente, non lo so. Forse se vogliamo fare una roba proprio, per dire, da masochisti, tanto vale andare in difficile almeno. Molto difficile, non credo proprio che riuscirò a fare niente, quindi... Penso che tutti siano più o meno d'accordo nel dire che sarebbe meglio farla in difficile. Però anche qui mi piacerebbe sentire le opinioni, perché... Meno male sto cercando di andare dietro alle vostre richieste, quindi preferirei cercare di farlo nel modo più corretto possibile. Poi, che altre cose ci sono da dire? Per quanto riguarda la campagna dell'impero romano d'occidente, credo che non ci sia nient'altro. Adesso vedo un attimo le risposte, poi o fine settimana o inizio settimana prossimo dovrebbe cominciare ad uscire. Tornando invece al discorso di prima, dell'origine di questo video, cioè che volevo fare cose diverse, ho intenzione di iniziare a fare una serie che durerà più o meno 5-6 parti, un video a settimana, su roguelikes. Ora, i roguelikes penso che la maggior parte di voi non li conoscano, e il 90% immagino delle persone che sono iscritte al mio canale non sanno neanche cosa sono, perché comunque è ovvio la situazione, cioè io ho fatto iscritti facendo Total War, quindi il 90% delle persone che sono sul mio canale guardano quello e sono qui per guardare quello. Nel momento in cui faccio qualcosa di diverso, inevitabilmente meno persone lo guarderanno, ma questo non mi preoccupa la cosa. Comunque, i roguelikes sarebbero tipo degli RPG generalmente gratuiti, sono quelli praticamente con le mappe generate casualmente, la morte permanente e cose del genere. In pratica sono le origini di giochi come Bannigo Isaac, per dire. Niente, voglio far vedere alcuni giochi che secondo me vale la pena di conoscere anche per iniziare a giocare quel genere, proprio perché sono gratuiti e secondo me vale assolutamente la pena. Quindi, niente, lo dico che comincerò a farla, probabilmente se non esce oggi, esce domani, una cosa del genere, il primo video, se vi va, dateci un'occhiata. E poi, avevo scritto anche ad un... avevo risposto ad un commento nell'ultima parte dei... dei ghetti, no, dei ghetti, non dei ghetti, che, appunto, vi avevo praticamente spiegato che cosa avevo intenzione di fare, e quindi lo ripeto anche qua. Avevo anche avuto un'idea perché avevo... ho visto, diciamo, il... com'è andato bene praticamente il video degli uni di storia che ho fatto, e ovviamente ho cercato di trovare un modo per fare qualche cosa di simile, no? Ehm... il problema, diciamo, è che... ci sono un po' di problemi in realtà. Il primo problema è che voi siete... o la maggior parte, cioè, o la maggior parte comunque qualcuno di voi so, perché ho visto i commenti, che la storia la conosce, quindi non è che posso andare a parlare di cose note, no? Devo cercare qualche cosa di che sia curioso, proprio perché è strano. Ehm... non è facile, ok? Per cui avevo pensato ad una serie che poteva permettermi di fare un lavoro del genere. Ora, come credo sappiano anche i sassi, io a livello universitario studio cinese, studio cultura cinese, cose del genere. Ho dovuto dare un esame di storia cinese, e... la cosa, potevo, diciamo, utilizzarla a mio favore. Perché? Ovviamente non può avere collegamenti con Total War, perché Total War, purtroppo, al momento non ha mai fatto un capitolo ambientato, o che quantomeno comprenda... la Cina, quindi non posso farci niente in quel senso. Però volevo fare una campagna, molto tra virgolette, di Oracle Universalis IV, che anche in quel caso probabilmente utilizzerò soltanto come sfondo, perché poi ci parlerò sopra, e l'idea, almeno per il momento, sarebbe stata di fare una serie di video passando di periodo storico in periodo storico, perché comunque la storia cinese è divisa in dinastie, come credo sappiano tutti, o meno, o dinastie oppure periodi storici, quando si parla di periodi interdinastici, diciamo. Prendere periodo per periodo, parlarne quel poco che si può parlarne, quel poco che può essere interessante dal punto di vista storico, magari anche fare collegamenti dal punto di vista, non so, filosofico molto, tra virgolette, perché ovviamente si nascono correnti di pensiero e cose del genere, dal punto di vista culturale, diciamo. E quello credo che lo farò, devo un attimo organizzarmi, e volevo sapere anche lì un attimo la vostra opinione a riguardo, ecco. Comunque, non né questa settimana, né la prossima, né probabilmente neanche quella dopo. Potrei iniziare a registrarlo un po' decentemente, durante le vacanze di Pasqua, diciamo, e considerato anche che comunque sono video che richiedono un certo tipo di lavoro dietro, perché comunque devo andarmi a rivedere le cose, devo prepararmi un discorso, anche in quel caso sarà sempre roba di un video settimana. Ultima cosa, come potete vedere, c'è tanta carne al fuoco, no? E soprattutto se avete visto la settimana scorsa, io ho caricato poco, vabbè, la settimana scorsa avevo anche i miei motivi, perché comunque è un periodo di parziale in università, quindi avevo da fare, ma... ecco, c'è tanta roba, tanta carne al fuoco, sicuramente devo un attimo bilanciare nuovamente le cose. Come detto, la campagna dei gheati è seguita, ma non più di tanto, comunque sono abbastanza sicuro che se inizio queste serie sarà sicuramente quella meno seguita sul canale. Quindi a questo punto direi che non ha più molto senso fare quattro parti a settimana, per dire, ma conviene diminuire la frequenza di quei video per dare spazio a altre cose che credo vi interessino di più. Quindi quello che succederà probabilmente sarà che magari scenderà ad un video a settimana che, mentre probabilmente quella dell'Impero Romano d'Occidente aumenterà magari a due o tre video a settimana se riesco. Ok. Sto pensando se ho qualche altra cosa da dire. Non credo. Come al solito se avete idee, consigli, cose del genere scriveteli pure. Tenete presente che io i commenti, vabbè, li leggo sempre perché non è che ce ne siano mai così tanti da rendere la cosa particolarmente impignativa. Ne tengo sempre conto. Quello che però vorrei che fosse chiaro è che voi che mi seguite avete un punto di vista che è lecito sicuramente. Cioè voi se mi consigliate una serie perché vorreste vederla. io nelle mie scelte di quale serie fare e quale serie invece non considerare vado dall'ottica di quello che il video deve farli. Cioè ci sono aspetti che non si vedono dal video e problematiche che io devo considerare voi non conoscete necessariamente diciamo. cioè ad esempio parlando della campagna dell'impero romano d'occidente io ho detto che era che è difficoltosa diciamo e che temevo che questa richiesta mi insomma temevo che me l'avreste chiesta no? Perché speravo che non succedesse ovviamente. Perché questo? Perché è frustrante da fare diciamo è frustrante in generale quando uno non registra perché ho fatto quei pochi turni per fare l'analisi delle fazioni e me ne sono accorto ovviamente. Può essere ancora più frustrante quando uno registra per alcuni motivi prima di tutto perché devi cercare di giocare decentemente quindi devi cercare di non fare stupidaggini e oltretutto spesso io gioco molto peggio quando sto registrando e quello che succede spesso con le campagne è che il punto di vista di chi non sta giocando è generalmente molto più oggettivo e molto più come dire molto più abile nel vedere quelli che sono gli errori e nel vedere quelle che sono le scelte e quindi probabilmente mi ritroverò a dover avere commenti di gente che mi dice che avevo dovuto fare in un modo piuttosto che nell'altro e gente che tendenzialmente ha ragione però io in quel momento tante cose non ci penso mentre sto registrando come anche il fatto che immagino che sia una campagna che sarà una campagna piuttosto seguita e questo porterà molto probabilmente ad avere paracchi consigli sul da farsi anche questo può dare dei problemi perché se ho due persone che mi dicono di fare in un modo due persone che mi dicono di fare in un altro tre persone che mi dicono di fare in un altro diventa difficile dar retta a tutti e diventa difficile gestire la situazione cioè diciamo è un aspetto di gestione della community molto tra virgolette che un come dire uno che youtube lo usa e basta per vedere video probabilmente non ha chiaro come funzionano certe cose e quindi insomma quindi fa delle richieste cioè fa delle richieste fa delle richieste che hanno senso secondo la sua ottica ma poi sono piuttosto problematiche quindi detto questo cioè questo è per dire se non vi do retta non è perché non v'ho letto o perché non me ne frega niente di quello che dite ok lì potrebbe lì probabilmente succederà che tante volte non darò retta a nessuno e farò di testa mia perché ci sono appunto queste motivazioni dietro che hanno un'importanza piuttosto rilevante sì forse c'è ancora un'altra cosa che si può dire in realtà che più che altro è una richiesta che voglio fare in questi giorni sono usciti parecchi giochi interessanti in realtà almeno è uscito un gioco veramente 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 interessante che è Pillars of Eternity che per chi non lo sapesse è fatto dall'Obsidian quelli che hanno fatto Baldur's Gate in generale i vari giochi dell'Infinity Engine che sarebbero degli RPG fra i migliori in assoluto ho visto che non l'ha fatto quasi nessuno non lo sta facendo pressoché nessuno in italiano ora io ho dei serissimi dubbi riguardo a una serie su quello perché prima di tutto non l'ho ancora finito e poi sono giochi generalmente molto lunghi per cui niente volevo sapere un attimo la vostra opinione in generale volevo consigliarvelo perché sicuramente è un ottimo gioco ma vedere un attimo che cosa ne pensate anche di questo se si magari in futuro o cose del genere più che altro vabbè significerebbe questo che prima devo finirlo vedere quanto tempo mi c'è voluto valutare se si può fare in modo un po' più veloce registrando e cose del genere però è una possibilità che quindi vi propongo e vi vorrei sapere un attimo la vostra opinione anche su quello detto questo avete parecchie cose a cui pensare a cui rispondermi diciamo e niente direi che per questo aggiornamento è tutto al prossimo video ciao ciao